Illustre e caro Presidente, illustri autorità, cari colleghi e amici, gentili signore e signori, sono molto onorato di poter condividere questa parola inaugurale, sebbene a distanza, nell'anno del settimo centenario che commemora la morte di Dante. Alla tradizione degli studi danteschi ha fecondamente contribuito la scuola torinese, sin dagli studi di Arturo Graff, corso di lezioni su Dante Alighieri nell'anno accademico 1899-1900 e ancora Demonologia di Dante, ripubblicato a Viterbo lo scorso anno. Ma va ricordata soprattutto la lezione di Giovanni Getto, Aspetti della poesia di Dante, pubblicato nel 1947, il primato che nel saggio è conferito alla poesia del paradiso. E poi dei suoi allievi, Edoardo Sanguinetti, con il saggio Suma le bolge, che inaugurò la collana di lettere italiane e gli studi molteplici di Giorgio Barberi Squarotti, Angelo Iacomuzzi, Gianluigi Beccaria, ma anche Allen Mandelbaum, che fu per qualche tempo professore a Torino, Darco Silvia Valle e Stefano Iacomuzzi, senza contare Carlo Dionisotti, che concludeva il suo celebre Geografia e Storia della letteratura italiana con un saggio acuto dedicato appunto ai centenari danteschi, varia fortuna di Dante, pubblicato dapprima nella rivista storica italiana 1966, al quale mi ispiro per osservare che in questo centenario non abbiamo a commemorare Dante, né Ungaretti, né Montale, né Saint-Jean-Pers, né Mario Luzzi, che allora si distinsero con acuti saggi. Anniversario più tenue questo, non solo per la pandemia, del quale probabilmente sarà da ricordare soltanto la possente opera lirica Dante, il viaggio, cui sta attendendo il compositore francese Pascal Dussapin. Per parte mia proporrò qui solo qualche chiosa, il testo sarà più organico negli atti, maturata nel lungo e impari commento alla commedia condotto a termine per la Pleiade Gallimard, dove per la prima volta, con Virgilio e una parte di Shakespeare, ho imposto il testo bilingue. Il titolo della mia conversazione è Dantesco, la infinita via, e cercherò di giustificarne la scelta. In più luoghi del poema, Dante, autore, giudica del viaggio di Dante personaggio, non meno di quante il personaggio confessi, di fronte all'ardua prova, il proprio limite. Ma io perché venirvi? O chi il concede? Io non Enea, io non Paolo sono, ma degno a ciò, né io né altri il crede. Perché se del venire io m'abbandono, temo che la venuta non sia folle. Siamo al secondo dell'inferno. Varcate le gelate croste di Lucifero e dell'inferno, giunti via Tores, di fronte alla montagna del Purgatorio, la voce dell'autore a sua volta esclama, Matto è chi spera che nostra ragione possa trascorrere la infinita via che tiene una sostanza in tre persone. Purgatorio 3 Dunque, tra la venuta folle e il matto è chi spera, c'è stato, inferno 26, il folle vollo di Ulisse, definizione di una frontiera invarcabile del conoscere. Per questo Dante conclude, state contenti, umana gente al quia. Giudizio che Dante, personaggio ancora e non meno autore, ribadirà al sommo del Paradiso, sicchio vedea di là da Gade il varco folle di Ulisse, Paradiso 27. Sebbene Onorio Diotten riporti criticamente la leggenda classica di Ulisse, Ulisses dicitur sapiens, per opporgli la vera sapienza cristiana. Ulisses dicitur sapiens, illic, illesus preterna vigavit, quia cristianus populus, vere sapiens, il popolo cristiano che è veramente sapiente, in navi ecclesie, mare, uius, seculi, super e natat. Il vero viaggio è quello del popolo cristiano che riesce a navigare sopra l'oceano mentre Ulisse vi affondò. Dante rovescia direttamente l'immagine, La fronte è la fonte preziosa per il parallelo giudizio su Ajace, Savio per aver preferito alla vita la dignità, proprio come Catone in Dante, come illustra Purgatorio 1, 71-72. Lo spartiacque è dunque netto, non c'è conoscenza vera che passi per l'elevazione della mente umana se non attraverso l'umile discesa kenosis della incarnazione. State contenti, umanagente al quia, che, se potuto aveste vedere tutto, mestier non era parturir Maria. La preghiera finale alla Vergine conferma la centralità dell'incarnazione, così come al centro della Trinità di umana specie è l'effigie del Cristo. Per questo il nostro conoscere è il quia che ne discende, ricco tuttavia di plenitudine. Noi, insomma, non abbiamo immagine di Dio che nel discendere del Creatore verso le sue fatture, come ancora conferma l'alto elogio di Beatrice che intesse il canto ventisettesimo del Paradiso. Ma ella, che vedea il mio desire, incominciò tanto lieta che Dio parea nel suo volto gioire. E terzina di intensa epifania della bellezza di Beatrice nella quale pare specchiarsi la letizia stessa di Dio. Può stupire che la gloria di Dio si rifletta in volto umano, ma si deve intendere che, con simmetrico moto, la Trinità rifulge del volto umano di Cristo, ove, siamo alla fine del trentateresimo, mi parve pinta della nostra effigie. Non è solo la più alta lode a Beatrice, ma già un aderire alla teologia imminente ormai di San Bernardo, il quale dice «Oc genus letizie, cieli nescerunt, nisi per ecclesie figlios». L'incarnazione ha portato un supplemento di luce e di verità che prima i cieli ignoravano. Osip Mandelstam ha giustamente insistito sulla fretta del pellegrino a raggiungere il compimento. Cito, «In Dante, filosofia e poesia sono sempre in cammino, sempre in piedi. Anche la sosta è una varietà di movimento accumulato». E' la definizione del viaggio che ha avuto maggior fortuna presso i critici, ma l'autore stesso sottolinea le conseguenze poetiche di quel quia, state contenti al quia, cioè l'indugio dantesco nel definire con precisione «Il bisogno di nulla lasciare indeterminato del dono della creazione che si assume a materia del dire». Cito ancora Mandelstam, la parte meno citata, «Eso, poema, è un corpo stereometrico di assoluto rigore, lo sviluppo compatto di un tema cristallografico. è impensabile abbracciare con lo sguardo o rafficurarsi visivamente questo poliedro dalle tredicimila facce mostruoso per la sua regolarità. Proprio perché il nostro ambito è il quia, la lettera del dire è preziosa, la sua verità prima indispensabile». Ancora Mandelstam, egli, Dante, dal canto suo aspirava a una conoscenza chiara e nitida, quasi fossimo alle soglie dell'era di Galileo. Il volo del poema ha spesso fatto dimenticare la dimora nel quia. Ora prenderò un esempio per mostrare la ricchezza di questa dimora. Dante non è il poeta della astrazione, ma della precisione, della definizione ultima nel sempre. Definisce le cose perché vi siano nominate nell'eternità. Quindi non può sbagliare. Anche per questo il suo lessico resta cantus firmus nella nostra memoria, parola scolpita, anzi, inchiodata, poiché ti fia chiavata in mezzo della testa con maggior chiovi che d'altrui sermone. Purgatorio 8. Vorrei qui proporre un solo esempio di questa mirabile esattezza. Nel punto di più alto pathos del poema, giunto Dante al paradiso terrestre, nel momento in cui Beatrice si rivela e gli rinfaccia duramente tante infedeltà, il pellegrino non riesce a emettere né voce né pianto e così descrive il proprio stato con una lunga comparazione. Sì come neve tra le vive travi, per lo dosso d'Italia si congela, soffiata e stretta dagli venti schiavi, poi liquefatta in se stessa trapela, purché la terra che perde ombra aspiri, sì che per fuoco fonder la candela, così fui senza lagrime e sospiri. Purgatorio 30. Il paragone è di lenta precisione. Quando la neve comincia a fondere, dapprima in se stessa trapela, passa di goccia in goccia entro i suoi stessi cristalli, il vento del sud agendo su essa come il fuoco lentamente fonde la candela, intorno a sé concrescendo il cero che cola. Ebbene, quel in se stessa trapela è osservazione acutissima. Non solo, qui cito Bernardino Daniello nella sua esegesi, scola a goccia a goccia, ma capillarmente trassuda come otre che passi il pelo, vellutello stavolta. Definisce, passiamo a una lingua gemella, definisce un suente gut a gut, che solo i grandi ascoltatori del silenzio dei cieli e delle anime sanno cogliere e i visionari dei deserti trattenere in parola. Elbu, suente, trapelare, stillare impercettibilmente il soggetto essendo un liquido, osservare un liquido che da sé trassuda quasi insensibilmente, il soggetto essendo un corpo o un recipiente qualsiasi. Si dice di ogni corpo alla superficie del quale trapeli un liquido formando o meno minute goccioline. Fine di citazione. E Charles de Foucault nel suo Dictionnaire Touareg Francais che è la voce di un popolo nomale, nomade al quale Charles de Foucault attese per quasi 15 anni e che è rimasto non edito se non nella forma fototipica delle schede che egli aveva raccolto. Quando si osservi quel lessico di infinita trasparenza e intensa luminosità, di albe e notti solitarie all'ascolto di ogni spirare del creato, ritroveremmo, ritroviamo, altre voci che ci riportano a Dante per esempio Wellyul volteggiare su se stesso il soggetto essendo una persona, un animale, una cosa. Per estensione essere in piedi tutto solo nella distesa dello spazio il soggetto essendo una persona, un animale, una cosa. Si dice per esempio di un animale, di un uomo, di un animale, di un albero che si levino soli nel cuore di una piana, in una vallata, su un declivio, su una cima. Fine di citazione. Quel cantabile Wellyul, tutto stretto al ritmo del proprio danzante svettare, non è forza l'ultima epifania della visione dantesca, come si volge con le piante strette a terra e intra sé, donna che balli e piede innanzi piede appena mette. Solo i pellegrini dell'infinito sanno che cos'è armonia. Il qui adantesco sta anche contro ogni compiacimento per l'ineffabile nel ricondurre ogni volta l'alto dire della elezione al quotidiano essere nella realtà incarnata. Cito ancora «Luce divina sopra me s'appunta penetrando per questa in chi io mi inventro, la cui virtù col mio veder congiunta mi leva sopra me tanto che io vegio la somma essenza della quale è munta». Pier Damiani è colui che parla e paragona la propria condizione di intimità con la luce divina servendosi di due termi fortemente espressivi, terreni, quale inventrarsi e mungere. Ma il suo realismo metafisico serve soprattutto a radicare l'infinita distanza che separa la nostra percezione dalla visione incommensurabile del divino. Cito ancora Dante «Anche quel serafin che in Dio più l'occhio affiso mai riuscirà a comprendere quello che si inoltra tanto nello abisso dell'eterno statuto che da ogni creata vista è scisso». È un termine molto forte, è un vedere scisso, è troppo oltre la realtà divina. Giovanni Getto fu tra i primi a segnalare questi seracchi, se mi è concessa l'immagine, raggrumati alle vette. Lo cito. Il poeta, giocando sulla sorpresa, ricorrendo per comunicare un'esperienza metafisica ad una corpurenta realtà fisica, determina un urto, suscita un'emozione, l'ansia di cogliere l'inesprimibile. Per poi concludere, queste angolosità e queste ombre segnano una distanza che conferisce rilievo alla dimensione del paradiso. Getto probabilmente non conosceva a quella data, 1947, le poesie di Mandelstam ma anche Mandelstam che riscrive nel proprio poema, nei quaderni da Voronei molti passi della commedia segnala proprio gli spigoli delle case, la durezza delle scale alle quali doveva attingere per mendicare il proprio sale, il proprio pane. altro che questo non resta a parte ominis ma a parte dei si serra una contenenza che in sé emana l'un dell'altro come iri da iri. Se l'uomo è costretto al quia quindi come scrive Getto alla scissura la divinità al contrario porta le persone stesse nella sua piena ingenerata unità. È il sé da sé e il sé con sé del mistero trinitario che Dante ha contemplato nelle potenze angeliche ai primi margini del paradiso come l'infinita unità generatrice. Cito dal canto secondo così l'intelligenza sua bontate moltiplicata per le stelle spiega girando sé sovra sua unità. Il molteplice perfettamente definito del quia umano è questo catalizzare tutto all'unità divina che gira sovra sé la propria unità. E poi dichiarato ancora nel diciannovesimo in quel infinito eccesso divino mentre il pellegrino si volge a quel bene che non ha fine e sé con sé misura. E sé con sé misura. La coerenza e la forza teologica del pensiero di Dante si concentrano in quelle terzine finali che ricapitolano e suggellano quanto il paradiso ha dispiegato. O luce eterna che sola in te sidi sola ti intendi e da te intelletta e intendente te ami e arridi. e in quel arridersi in quel divino sorriso qui ludit coram sé potremmo dire il senso del poema e del suo bel volto umanato dentro da sé del suo colore stesso mi parve pinta sottinteso la trinità della nostra effigie. Qui finisce il viaggio intellettuale di conoscenza ed amore di Dante. Le ultime terzine sulle quali ha scritto pagine meditate Angelo Iacomuzzi sono il prendere congedo di Dante da sé geometra appassionato di quel principio ondelli indige e che infine si affigge così come si era chiusa la venuta al paradiso terrestre nella cantica precedente quando s'affisser siccome s'affigge chi va dinanzi a gente per scorta se trova novitate o sue vestigie egli ha trovato la novità prima e ultima e lì s'affigge armonizzando infine il ritmo si come rota che ugualmente mossa a quel centro perno e fonte del creato nell'amor che muove il sole e l'altestelle devo riconoscere che quel verso si come rota che ugualmente è mossa mi ha tormentato per decenni da quando Giovanni Getto mi assegnò la tesi sui canti dell'antipurgatorio perché non è possibile che Dante così scultorio chiuda con un'immagine sostanzialmente diciamo come si vede dai commenti esterna all'argomentare divino che in quelle ultime terzine egli ha condotto ma bisogna percorrere l'immaginario dantesco e molta storia della miniatura medievale come loro vedranno o hanno visto nella sola immagine che viene proiettata l'ultima immagine del paradiso quella della ruota è quella di un moto universale che armonizza il creato come il vasaio muove uniformemente la ruota il poema si suggella insomma credo che sia questo un piccolo contributo nuovo ai milioni di testi dedicati al commento dantesco il poema si suggella nell'immagine del Deus Figulus da una feconda radice patristica potremmo prendere intanto Sant'Ambrogio il quale dice quasi Figulus quidam Deus fabricam carnis est operatus umano come un vasaio Dio ha operato creando la fabbrica dell'umana carne perché egli ci ha presi con le sue mani ci ha formati tutti siamo vasi d'argilla cita qui seconda corinti 4 abbiamo un tesoro in questi vasi d'argilla ecco proprio l'immagine diciamo così della creazione che arriva al termine del creato stessa situazione con Beda anche se attribuito nel commento al secondo salmo non sto a citare il lungo passo ma posso dirvi che ce ne sono almeno altri 7-8 in Sant'Agostino il Dio vasaio che si vede in molti capitelli e miniature medievali e che Agostino aveva portato al più alto compimento meditando sul tempo e sugli universi è il tempo del vasaio divino in quel volgersi della ruota intorno alla mano che plasma e modella immagine cosmica che lega astri e pianeti secoli ore e istanti al lento gesto del quotidiano al quale ugualmente il viator si rimette e si conforma leggiamo questo splendido passo dal libro undicesimo delle confessioni cito direttamente in italiano ho udito dire da una persona istruita che il tempo è di per sé il moto del sole della luna e degli astri e non assentì perché il tempo non sarebbe piuttosto il moto di tutti i corpi qualora si arrestassero gli astri del cielo e tuttavia si muovesse la ruota del vasaio non esisterebbe più il tempo per misurarne i giri e poter dire che hanno durate uguali oppure se si svolgono ora più lenti ora più veloci che gli uni sono più lunghi e gli altri meno e ciò dicendo non parleremmo noi stessi nel tempo nel tempo e non vi sarebbero nelle nostre parole sillabe lunghe e brevi per la sola ragione che le prime risuoneranno per un tempo più lungo e le seconde per un tempo più breve o Dio concedi agli uomini di scorgere in un fatto modesto i concetti comuni delle piccole come delle immense realtà un passo vertiginoso e che possiamo io credo anzi dobbiamo in questa immagine della ruota del vasaio che ugualmente modera i cieli e il singolo viator io credo possiamo effettivamente concludere la lettura dell'ultima terzina del paradiso anche appoggiandoci a San Tommaso il quale scrivendo sopra le sentenze dice vasa que in honorem Deus sicut figulus facit sunt santi qui preparantur in gloriam ecco Dio come un vasaio comincia a fabbrica questi santi per proprio onore qui preparantur in gloriam e la fine del viaggio è già la preparazione in gloriam che San Tommaso deduce da quell'immagine del vasaio mi avvio a conclusione il compito del poeta è dunque terminato a colui che ha fatto il cammino di Croassia per vedere il volto di Cristo impresso nel vero della Veronica la grazia concede che desiderio e volontà infine si appaghino e si riducano a un solo ordine universale come annota il Tommaseo volgeva Dio volgeva con libero equabile tranquillo moto soddisfatti il mio desiderio e l'amore si chiude la lunga battaglia della tentazione del contendere del bene e del male in quel velle placato che era stato avvolto per secoli nei vincoli e nelle insidie del mondo M maiuscola secondo le confessioni di Agostino qui credo sia davvero una citazione diretta velle meum tenebat inimicus e il velle che troviamo ormai ricondotto all'armonia celeste si erano infine conformati al sempre il desiderio e il gaudio ergo amor nos conformat non è un mistico ma un giurista direi concorrente opposto al pensiero politico di Dante il contemporaneo egidio colonna nel celebre De Regimine Principum ma questo per dire che anche da parti opposte alla fine poi l'immagine divina è sempre questa l'amore ci conforma il desiderio ci muove e il diletto il gaudio ci acquieta ciò che lega infine tutta intera la commedia senza distinzione di regni né dissonanza nella pena o nella gloria è la teoria d'amore e la delectatio che ne è frutto che è vincolo di reciprocità dal fatale a prendersi l'un l'altro di Paolo e Francesca amor canullo amato mar perdona al ricordare nel purgatorio che amore acceso di virtù sempre altro accese paradigma identico quello di Paolo e Francesco per arrivare al sommo subsisto divino di paradiso 19 saperse in nuovi amor l'eterno amore l'amore produce amore come magnificamente chiosa benvenuto saperse in nuovi amori id est manifestavit se in novas creaturas que non sunt sine amore aggiungendo la citazione di purgatorio 17 né creator né creatura mai fu senza amore quando si prenda questo paradigma la distinzione delle tre cantiche s'attenua notevolmente è questa la vera economia della commedia il leitmotif strutturante tutto il poema che pienamente adempie al versetto biblico da proverbio 8 ego in tale plenitudine ciò che distingue il pellegrino d'amore rispetto alle forme condannate di questo amore che accende reciprocamente è solo l'inesausta veglia il guetet l'horror come avrebbe detto il guetet l'horror del cantico dei cantici e della sapienza ego diligentes me diligo e qui mane vigilant ad me invenient me e coloro che fa un veglia per me mi troveranno questo cantico dell'alba del purgatorio sinché quel prevenire il tempo come dice Dante proprio alla soglia della montagna giunga al suo eterno compimento in una nuova alba di immutabile luce paradiso 23 e con ardente affetto il sole aspetta fisoguardando pur che l'alba nasca credo che questo verso pur che l'alba nasca possa accompagnarci anche in questa vicenda di pazienza di prova attendendo appunto l'aurora e in qualche modo anticipandola vi ringrazio ho l'alba o o o o a Grazie.